Salve a tutti i genetriubi, io sono Zexid e oggi in questo nuovissimo video Ragazzi questo è un video diciamo presentazione perchè come sapete io prima o due giorni fa mi chiamavo KingGamers26 Il nome diciamo l'ho cambiato, adesso mi chiamo Zexid Spero che il nome vi piaccia, io ho deciso di cambiare solamente il nome senza cancellare i video Magari cancellerò qualcuno banale, capito? Quindi ragazzi questo era il mio video di presentazione e via Noi non c'è nessuno, 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 non c'è